Musica Benvenuti in questo nuovo video di minecraft Ci vediamo oggi per un nuovo episodio della griffin challenge Questa volta ragazzi sarà un episodio davvero molto ignorante Come sempre d'altronde Non ti dico questa volta ma in realtà lo è sempre Ma ragazzi 1500 like per un nuovo episodio in compagnia La vostra griffin challenge sta davvero andando troppo bene Quindi vi ringrazio il cuore Ovviamente lavorerò in Olanda quindi non saprò se vi leggerò tutti quanti i commenti Però vi prometto che quando torno in Italia leggerò tutto quanto Comunque sono tutti quanti i bomber qua che ho visto sul canale di Telegranchessa Sotto in descrizione E oggi faremo una bella griffin challenge davvero molto ignorante Cioè cercheremo di raccogliere i materiali più possibili E poi darmeli a me alla fine della griffin challenge Cercare di distruggere un'isola intera Ce la faremo? Non lo so proviamoci Ok ci siamo siamo pronti Ho spiegato i bomber cosa faremo Allora in pratica come vi ho detto comunque spero vi avevi detto Cercheremo tutti quanti di raccogliere più materiali possibili Che poi vi verranno dati a me Cioè vi lasceranno in Italia del loro inventario praticamente Verranno dati a me e alla fine in 10 minuti non ho tenuto il cronometro Vabbè siamo a 2.52 adesso ora come ora va bene A 12.52 vuol dire che Probabilmente potrò iniziare a far esplodere tutto quanto Come sempre c'è Blanky in partita Io sono bloccato qua dentro Come faccio a uscire? Per favore No ti prego No raga lo spider jokey no vi prego io non ce la faccio più con te Io ti odio Io ti odio Tu sei il mio incubo peggiore Sei peggio della spadezzina te lo giuro Sei il mio incubo basta Devi morire Inizia Muori Quanto sei invincibile Diamine Basta Oh Ho bardato uno spider jokey Sì Perché non ce la faccio più Comunque terrorista lui non si può assolutamente accumulare Comunque dai cerchiamo un bel po' di roba Roba Raga Comunque mi raccomando qua sotto nei commenti Come sempre consigliatemi cosa fare Nelle prossime griffin challenge Appena tornerò in Italia Vi prometto che le leggerò Comunque Se mi fate il favore di morire cagnolini Detto così suona male Non denunciatemi al VVVVF Per favore Fatemi un favore di morire Infatti sono morti Comunque Perché il razzo esiste su minecraft Mi spiegate Mi spiegate perché Comunque cerchiamo sempre di Apprendere le robe Oggi Niente creativa raga Oggi non farò la persona brutta Non cercherò di cittare Come l'altra volta Farò la persona Un po' più buona e tenera TNT Spero che sia quella Che poi me la droppa E no Invece no Invece esplosa Male 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 Dai La ragnatela sullo spawn Però no Filza Comunque oggi cercheremo Anche di spaccare la bedrock Voglio puntare Tutto quello che troviamo Compagnia dei bomber Sulla bedrock Voglio provare a distruggere La raga Ce la facciamo davvero 10 punti a griffon d'oro Voglio vedere se si può rompere Con il distracto Queste cose Perché so con la TNT Non si può fare Però comunque Archi come distracto O black hole O queste cose Magari hanno la possibilità Di distruggere Il La bedrock E tutte quante queste robe Quindi Io Proverei raga Poi non si sta mai Saremo i primi a distruggere La bedrock In tutto il mondo Però Lo squid Non è accumulabile Mannaggissima Datemi una Una freaking spada Così posso distruggere Con la ragnatela di merda Comunque Non posso ritornare in vita Si c'è un mover Ok Ecco Mi sono schiantato malissimo Dai Togliti Che palle Comunque Vediamo un attimino Non ho trovato ancora nulla No Non ditemi che sono Altre ragnatela Vi prego No basta 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 Sto laggando troppo Basta 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 raggare Eh terrorista Mannaggia Raga ma che schifo Sto facendo schifo Basta Ragnateli Madonna Eh Raga Non riesco a giocare Non riesco a giocare Non riesco assolutamente a giocare Mi date una spada Figa Arco spettrale Inutile Arco spettrale è davvero inutile raga Cioè non serve proprio niente Ho già due sete extracto Bravi voi raga Oh finalmente Oh dei creeper raga Porco due Dei fucking creeper Mettiamo in vetro ste caccate L'arco no Beh ce lo teniamo Arco spettrale via Tiriamo tutto quanto Quello che è inutile Via per favore Non è possibile Che non sia ancora trovato niente In quanti minuti Quanto tempo ho passato Ero a A quattro minuti Non ho ancora trovato nulla Raga A parte che non ho la webcam Zoomata Ok ora si Però c'è che tristezza De marm Ok Qua ho trovato un bel martellitor Che potrà Basta Madonna Ma li faccio togliere Li faccio togliere Li faccio togliere Li faccio togliere gli hater Davvero Come ti permette Uccidere una pecora A te È sacco di schifo Raga Come se fate uova di creeper E martellitor Questo non si può tenere No Ma come mi sono salvato Raga Madonna mia Grande traffic Che sa come si gioca Comunque Oh ma che bello Lo so c'è through the blaze Tanto Lo chiami Il black hole Davvero Troppa roba Il black hole è una bomba Raga È una bomba È davvero una bomba Comunque Vediamo un attimino No 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 Urca Come mi sono salvato Raga Troppa roba Con che voce l'ho detto Poi Quanto siamo qua Siamo esattamente Ora a quattro minuti Quindi ci sta Mi sembra un terrorista Quello lì Però vabbè Fa niente Comunque tu Carolino Volante Staffa di lollo Mi sembra che faccia anche i fulmi La staffa di lollo Mi avete scritto così Altro scetto del blaze Tanta roba Quindi teniamoci Nel caso Dopo riusciamo a griffare per bene Ecco C'è una spada Non ho una spada Mannagissima Diamine Dai togiti Ok perfetto Andiamoci Andiamoci via Da questo Posto bruttissimo Il super pot Tanta roba Qua No Il dov'acchino Poi ci muoio No 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 Tu mi devi mollare Zio Tu mi devi Eccoci qua Tu mi devi mollare Ti ho detto Basta Basta Ok perfetto Comunque Quattro Black hole e quattro creeper Bravo Bomber GG Il spider gioco è desponato Perfetto Que C'è troll Inutile Però mettiamo via tutte le robe Che non ci servono Tipo questi archi Via questo Via questo Via queste robe Via I creeper Ci riteniamo I smeraldi Via I lucky block Questi qua mettiamoli Non si possono mettere Non si possono sommare E vabbè E vabbè E vabbè Comunque C'ho sempre l'ansia di non avere il tempo sotto gli occhi Come c'ho di solito col telefono Quindi ogni volta mi viene da guardare la videocamera Però vabbè fa niente Altro shatter the blades Che sembrava un blocchettino di stone Che cosa ignorante No dai no Basta morire Basta 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 3 destructo il bomber graphic Molto bene Molto 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 bene Comunque Dai vi prego Mi date una spada Chiedo Grazie tuono Oh una spada Yeee Allora togliamo La rennetera Per favore Questa qua Questa qua Oh la Grazie Anni e anni Per l'anientera di The Mark Per toglierla Comunque Cerchiamo De destructo Li chiami Arrivano Li chiami Allora Guarda guarda Con ci muori Boom Grazie Comunque Chiamo il destructo Arriva Destructo No in realtà muoio Soffocato questa volta Però è davvero Una cosa clamorosa Ogni tanto succede Che tipo Dici voglio il destructo E boom Destructo Se succede ancora È una cosa davvero Molto comica Comunque abbiamo un cuore Però La nostra preoccupazione Di rimanere sopra A quella Cavolenetera Ormai l'abbiamo tolta Quindi togliamoci Queste robe Davvero inutili Tac 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 Armatura Ce la togliamo Il piccone Questo ce lo togliamo Super pot Black hole Destructo Erano a fianco Molto bene Si tengono la manina Cucciolosi Poi qua Altra diamante Altra roba Un pochino inutili Ora come ora È da un po' Che davvero Non faccio però Le cubo Come dovrebbero giocarsi Quindi magari qua sotto Nei commenti Fatemi sapere Se rivolete Le vecchie cubo Magari in compagnia Degli altri In 3 In 4 Che erano davvero Molto divertenti Che però C'è stato un periodo Che avete proprio perso Interesse per le cubo Cioè io Mi ricordo Avevo tipo 30-40.000 iscritti Quando le spammavo E pur avendo 30-40.000 iscritti Mi facevano 15-16.000 Visual a video Ora che ora Come ora Quelle visual In un video del genere Me le sognerei Perché comunque Hanno perso un po' Di interesse Le cubo lucky block È un po' un peccato Perché come sapete Ai tempi Le egg wars E i cubo lucky block Erano i miei game preferiti E ora Le ho praticamente Eliminati Se non con qualche challenge Con i minigame Comunque Mi spiegate Come diamine è possibile Che io Spawno sulla bedrock Ma in realtà Sono spawnato ancora Sulle rinatele Cioè le rinatele Sono una meme incredibile Raga Davvero incredibile Comunque mancheranno Più o meno Un minuto e 30 Un minuto e 40 Quindi Qua stiamo registrando Sì perché C'ho ansia che Non si registri Comunque Altri hater Che però Sono presi Il tuono Eh Eh Sacchi di schifo Hater Eh Vi piace mettere Dislike ai video E ora vi prendete i tuoni No 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 Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Ecco Sono morto Basta Siete troppi Mannaggia Ma Basta Cavolo Madonna Che ansia Che siete tutti Ma ecco Mi si è rotta anche la spada Bob Davvero Cioè gli anni passano Ma tu non passi mai Cioè il mio odio per te È una cosa incolmabile Te lo giuro Vediamo qua Lagga No 10 creeper hanno scritto Quanto manca Manca poco bomber Manca un minuto praticamente No mancano due minuti da adesso Prima ho svegliato a fare anche i conti Raga Facciamo una cosa ignorante Facciamo una cosa Mi date il secchiello Di Ok Morio Dai perfetto Se facessimo Cosa ho tolto Prima abbiamo fatto niente Dopo andiamo a prenderlo Allora Tac Facciamo una roba Tac Come si Non si può dare No Non mi posso dare Che io ricordi C'era la roba Che se davo Un secchio di latte Allo zombie Diventavo un villager Se non erro Ah no Il tuono No Basta Io non vi sopporto più Bah Basta Basta Avete rotto il cazzo Bah Non ve lo c'è nessuno Nemmeno BASTA Madonna Madonna Ci faccio più Ci faccio più Comunque No basta Eh no a me In questo episodio TNT raga È la prima TNT Che riesco a trovare Incredibile Ma vero Yeee Altra TNT Ecco Un esplosa L'altra Dai Dai Almeno te Rimangi Ok Vediamo quanti È uno È solo uno È solo uno Ma è solo uno Dai Ma mi emano raga Che palle Mancano 50 secondi Comunque Ah adesso Mi le ha trezzo in diamante No Ho buttato via le frecce Che c'è Basta Ma non mi sei spuntato Te Non ti sopporto più Dio Eh che cavolo Ok Ho ripreso le frecce Madonna Ma quanti Sette d'extracto Uno scriva come raga Ma siete impazziti Raga ma davvero Mancano 30 secondi Comunque più o meno Quindi Cerchiamo un attimino Di farcela Qua quanta roba c'è Altre cure Ormai Uh uova di creeper Però raga Questo sono tenere in conto Perché ne abbiamo 6 Tanta roba A sto punto Io mi svuoto l'inventario Raga Perché ormai è finito il tempo Mancano 10 secondi E stiamo attenti A buttare via le cose giuste Quindi Tac 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 Arco del tp Le enderper ce le teniamo Le frecce ce le teniamo I diamanti li buttiamo in via Il martello di torcio ce lo teniamo Il secchialo ce lo teniamo Questo buttiamo in via Questo buttiamo in via Questo buttiamo in via 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 E stiamo a posto Fine raga Fine Tempo Quindi adesso Allora ho chiesto a tutti quanti i bomber Di fare una Una chest in base loro Per Almeno salvarsi i materiali E tutte quante queste robe A sto punto Inizio un attimino a griffare Con quello che ho trovato io Qua abbiamo anche un distracto E un black hole Abbiamo anche dei creeper Con il martello di torre Quindi Lanciamo prima Il black hole Sulla bedrock Vediamo un attimino Cosa succede No il distracto ce lo teniamo per dopo Perché ho lanciato quello Vabbè fa niente Comunque Lanciamo anche un po' di creeper Qua e là Li ci arrangiamo tutti quanti assieme Dai Il lag Zio bestia Boom Perfetto Qua No c'è ancora la bedrock Che palle Allora tu esplodi Dai Ok Bravo Bravissimo Non abbiamo trovato nulla comunque noi raga Blaze ho sparato una palla di Blaze in giro Però fa niente Comunque questo qua è tutto quello che avevo tecnicamente Destracto Un altro distracto Via E spariamolo là sulla bedrock Boom Perfetto Abbiamo iltato la bedrock in modo perfetto Andiamo dal verde Vediamo cosa c'ha il bomber verde Il blanket Il caro bomber blanket Io mi ricordo di te Mi raccomando Allora Vediamo qua Oh Ha trovato un bel po' di roba il bomber Quindi mettiamo via tutte quante queste robe inutili Che abbiamo per noi Facciamo così Mettiamo tutte qua in alto le sue cose Ha fatto un bel bottino di robe Un black hole Tanta roba il black hole raga davvero Black hole Ancora sulla bedrock No dai basta sulla bedrock raga Ormai è indistruttibile la bedrock Abbiamo capito Non ha un distracto Perfetto Comunque Lì bisogna lanciare comunque altre fireball o ste robe Quindi lanciamole Le fireball fanno qualcosina Non troppo ma qualcosina fanno E poi carichiamo un pochino tutti quanti questi Su forza Boom L'avete fatto boom Bravi Non l'avete ancora fatto boom Su Come sono morti Adesso avete esplosi Bravissimi Ne mancano tre Ne mancano tre quindi Ok Dai esplodete diamine Spariamolo un pochino la No il bomber arancio se n'è andato Mi spiace bomber arancio Che te ne sei andato Dov'è la cesta del rosso? Ah eccola la Eccola la Perfetto Allora Vediamo il rosso cosa ci ha preso Mmm Molto bene Molto bene 6C TNT Sono quelle piazzabili? Molto bene Molto bene le TNT piazzabili raga Ok a sto punto Visto che ha le TNT piazzabili Io farei andare Prima Minchia c'ha 22 creeper Questi sono il delirio Ok attivatevi Cucciolono Picci picci Dai fatti esplodere Non esplodere Perché c'è giorno Non esplodono tutto Comunque saliamo E mettiamo anche un po' di creeper Io direi qua in alto Perché Secondo me Un po' di creeper Ci sta a farlo esplodere qua Quindi Un po' di griff E sano griff Qua ci sta Tu non sei ancora esploso Perché no? Perché non sei ancora esploso E tu perché non sei ancora esploso? Ci stanno comunque raga 22 creeper sono tantissimi Facciamo questo nel vuoto C'è un charger creeper Là in fondo Ha fatto l'esplodere E no niente Non è esploso Ma tu perché non sei morto? C'è da piazzare un po' di TNT qua e là Quindi a sto punto In più Piazziamo un po' di TNT Raga a sto punto Mi conviene Farvi vedere il contenuto Di ogni singola chest Dei bomber E qua sono in un loop infinito In cui continuo a cadere Vi faccio vedere il contenuto di ognuno Poi vi faccio vedere il risultato finale Perché se no viene un video troppo lungo Allora vediamo il bomber Ah Raga questo ho trovato il devasto Eh raga questo è preoccupante Raga questo ho trovato davvero una cosa pazzesca Cioè raga guardate qua Un devasto incredibile Abbiamo ancora un black hole Qua abbiamo anche dei TNT piazzabili Ne abbiamo 32 Madonna mia raga Troppo Verde marca Fa tutto quanto il tempietto Grande step Oddio Oddio 19 lanciabili Sono un'infinità 19 lanciabili raga Queste 16 raga Le piazzo tutte quante qua Perché non ho messo niente in questa zona qui Come vedete qua è tutto quanto ancora buildato Qua non ho ancora fatto esplodere assolutamente nulla Quindi voglio creare un solco Non dico uniforme però quasi E mi scazza che non sia tutto quanto fatto per bene Come si deve Qua piazziamo queste E le facciamo esplodere tutte quante assieme Corriamo È una run tra le TNT Corri 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 Boom Potrebbe esplodere tutto quanto Perfetto Già che ci siamo Abbiamo solo un distracto Da questo bomber Che però ha fatto un ottimo lavoro Io il distracto Lo sparo Sempre più sotto Dai Tipo là Boom Abbiamo 19 TNT lanciabili Io ne sparerei un pochino qua per esempio Esplodiamo 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 Su 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 In questa zona qui tutto quanto a rifare Poi ha solo un creeper Che faccio comunque sempre in questa zona Però questo qui lo carichiamo E ancora una TNT piazzabile Poi abbiamo anche delle blaze road Quindi queste qua le facciamo esplodere da quella parte E in più mi ci tippo là Credo che raga questo qui sia peggio di un record Ve lo giuro Ben finito questo grief raga Adesso andiamo a prendere gli altri Andiamo dall'arancio Che anche se comunque ha quittato la partita Dovrebbe esserci ancora Ok Ah Si è impegnato comunque il bomber Mi si è interrotta la webcam A caso Comunque prendiamo qua tutti i martellitor Abbiamo un po' di TNT Un po' di robe Dai ci sta Si è impegnato l'arancio Sono molto bravo Io sparerei il distracto Lì E il black hole Là Là sotto Perché ancora lì Vedo poca roba In più Questa roba qui La sparerei qua sotto Invece No Cado Che pirla Comunque questi creeper Io li sparerei qua Li farei spawnare qua sotto Però cadono Muoiono Marco sono un po' un pirla Ne mancano pochi raga Ne mancano davvero Due Spaccate Mi sembra di persone Oh mio dio Ha fatto anche lui il tempietto Grande È bellissimo È tenerissimo Vediamo un attimino Mettiamo queste robe da questo lato Lui ha trovato 16 TNT piazzabili E 16 lanciabili Che è davvero molto comoda E non ha trovato due archi Due black hole Madonna raga Ma quanta roba avete trovato Ma perché sono sparati giù Ma perché si stanno picchiando Prendiamo già che ci siamo Quello di Anche lui ha fatto tutta la casetta tenera Entriamo È un troll Ma mi hai trollato Mi ha trollato malissimo Allora Ok Anche lui ha trovato tantissima roba Siamo arrivati negli atti finali Raga Unisco gli ultimi due Così ci siamo Siamo belli carichi Io sto laggando come pochi Mi sono ritrovato Stra indietro La misura praticamente è solo un contorno Hanno scritto Io non l'ho vista per bene Però Da quanto vedo però Questo latino qua Non l'ho proprio caccato Quindi mo Ci interessiamo un attimino Qua Con queste otto lanciabili Qua Per esempio Qua Qua sotto Qua sopra Anche un pochino Quindi Tac Tac E tac Poi ne abbiamo altre No Queste qua sono altre lanciabili Perfetto Quindi Altre lanciabili Vuol dire che le sparo Un pochino là Così uniformiamo tutto quanto Il solco E raga A sto punto Io direi Qua Facciamo davvero il devasto Con tutti quanti questi archi Questi qua li spariamo Tutti quanti insieme Ci siamo Via Si parte Raga Qua Facciamo veramente il devasto Raga Uno ha scritto che è impossibile Nulla È impossibile Per un griffer come The Mark Poi Un altro Là sotto Poi Cosa abbiamo 12 8 piazzabili Sono 16 piazzabili Purtroppo raga Sembra davvero No Impossibile non lo so Però abbiamo un altro black hole Va bene Che io sparerei Là sotto Perfetto In più abbiamo 21 fireball Qua sotto raga C'è da fare questo lavoro qui Assolutamente In più Quanti creeper abbiamo 17 creeper Con un bel martello di Thor Allora Mettiamoci qua E piazziamo questa TNT Raga non è settata neanche illuminata bene Però ormai siamo verso la fine E fa niente Chi è arrivato fino a questo punto È un vero bomber Perché questo qui è un griff Durato da record Davvero da record raga Il più grande griff Che io abbia mai fatto Ok raga Siamo arrivati praticamente alla fine Mi mancano solo queste shattery di blaze E poi è davvero La fine È stato davvero un video ignorantissimo Adesso vi farò vedere Quanto abbiamo griffato E quanto è rimasto alla fine Di tutto ciò Madonna raga Che devasto che abbiamo fatto comunque È davvero incredibile Oh mio dio quanta roba c'è Raga è incredibile C'erano troppe robe Oh mio dio quanti creep Oh creeper oddio Blaze in realtà Raga è impossibile Davvero Purtroppo ci siamo messi qua Con tutto quello che abbiamo trovato E non riusciamo a griffarlo Per intero È davvero un'isola gigantesca ormai Quindi Purtroppo Dobbiamo dire addio Alla nostra sfida Non ce la si è fatta Ed è stata comunque Una cosa epica Va bene così Ci siamo divertiti Tutti quanti in compagnia È stato davvero divertente Abbiamo finito Con questo ultimo shattery Abbiamo finito tutto quanto Adesso controlliamo Cosa ne è venuto fuori Non siamo nemmeno riusciti A romperla bedro Ok Ce la si è fatta Comunque raga Che abbiamo fatto un lavoro Secondo me Incredibile di grief Perché l'isola C'è rimasto Praticamente il contorno Ed è qualcosa di clamoroso Ve lo giuro raga Clamoroso Ringrazio tutti quanti Perché hanno partecipato A questo video Ringraziate anche in chat È stato davvero divertentissimo Noi ci vediamo in un prossimo In davanti è tutto Non ce l'abbiamo fatta Perché è stato davvero Molto divertente Bella